Com'è andata? Carboni, quindi Ellas? Stavo lavorando per l'Ellas, vediamo. Sensi, Monza? State un'offerta della Frentina per Sensi, non l'abbiamo parlato adesso di Stefano, adesso non abbiamo parlato, abbiamo parlato solo di Carboni. C'è anche il Cagliari? Sì. Il Cagliardini invece vuole rimanere all'Inter o c'è una possibilità che vada a Vida? No, 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 non va a Vida. Per Carboni meglio un'esperienza subito in Serie A o si potrebbe partire dalla B. Cos'è meglio per lui? E' meglio un progetto che abbia una logica, un progetto che è vero, una logica, come c'è anche Cagliardini. Poi una volta che troviamo la quadra ne prenderemo un ragazzo. Se è possibile che Pessina possa arrivare all'interno? Ancora, tu ogni volta mi chiedi di Pessina. Occhio che cagli. Sì, sì, basta portare a casa la notizia. Adesso è presto di questa roba. Però non è che la smentisci. una cosa extra, su Frattesi ci saranno dei colloqui, in breve. Ti ripeto, adesso su quella posizionativa credo sia presto adesso per parlare di questo. Va bene? Grazie mille. Grazie. Ciao, grazie.